Una mafia liquida che va in primi sconosciuta e poi contrastata, un business in continua evoluzione che adatta il proprio sistema criminale a tutte le necessità a cui non interessano più le armi, ma le nuove tecnologie, puntando a grossi guadagni con rischi minimi. Fra i settori più appetibili l'agroalimentare. Fotografa così la malavita Giancarlo Caselli, presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla Criminalità nell'Agricoltura e sul Sistema Agroalimentare. Nel corso del convegno sfoltosi oggi pomeriggio in Camera di Commercio intitolato La Difesa del Made in Italy, promosso da Coldiretti, Sondrio, con la Fondazione Osservatorio sulla Criminalità nell'Agricoltura e la Camera di Commercio di Sondrio. Ci impegniamo perché i prodotti alimentari siano veramente italiani e veramente certificati. Ai numerosi ragazzi presenti in sala il magistrato ha spiegato che la legalità non deve essere un fastidio, ma un punto di partenza contro un fatturato mafioso sempre in crescita. 150 miliardi di euro l'anno saccheggiati. Le agromafie sono presenti in tutti i segmenti dell'agroalimentare. Quanto a Sondrio non esistono zone franche che possano dormire a sonni tranquilli rispetto al pericolo di infiltrazione e di insediamenti mafiosi. Già giudice e istruttore a Torino, Caselli è autore di varie pubblicazioni sui temi della legalità. Per alimentare tira, è un settore che rende, rende bene, attrae soggetti di ogni tipo, borderline, irregolari, malfattori, delinquenti, mafiosi. Per di più per i mafiosi c'è un vantaggio che loro ricercano sempre, non soltanto i settori di intervento economicamente ereditizi, ma anche quelli che dal punto di vista della disciplina normativa consentono di rischiare il meno possibile. Il settore del cibo è l'ideale da questo punto di vista. Guadagni possibili molti, buoni, rischi quasi zero perché la nostra normativa è vecchia come il cucco. Bisogna che si aggiorni, altrimenti resteremo indifesi, il consumatore resterà indifeso, il mercato regolare sarà devastato rispetto a tutte le legalità, agromafia comprese. Focus sull'agromafia anche da parte degli altri autorevoli relatori. Simone Martano, comandante dei NAS di Brescia e Rolando Manfredini, capo area sicurezza alimentare col diretti. A rimarcare l'importanza dell'incontro la Presidente della Camera di Commercio di Sondrio, Loretta Credaro.